Rubavano identità, le duplicavano, le inventavano, affidandosi a due tipografie napoletane, centri di smistamento di una rete di documenti falsi destinati a clandestini stranieri. Quattro gli arresti, 70 circa le perquisizioni in tutta Italia da parte degli uomini della Digos. Le indagini della DDA di Napoli partono dopo l'attentato terroristico ai mercatini di Natale a Berlino il 19 dicembre 2016 e si stringono via via attorno al circuito di conoscenze e relazioni di Anis Amri, il responsabile della strage, ucciso a sua volta dalla polizia a Milano qualche giorno dopo. Lui stesso era risultato beneficiario di documenti falsificati ad arte. Sono finiti in carcere un senegalese, un guineano e un ganese, ai domiciliari un quarto soggetto del centro Africa. Tutti appartengono alla filiera del falso operativa tra Napoli e Caserta. Uno dei quattro è stato rintracciato a Rotterdam ed arrestato in virtù del mandato di arresto europeo. Dovranno rispondere di concorso in contraffazione, riciclaggio di documenti di identità italiani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ricettazione.